James è un americano in qualche modo in prestito alla cultura europea e in questa dimensione ambivalente sviluppa tutta la sua vita prima ancora che la sua opera, opera quasi sterminata potremmo dire. Vorrei leggervi un brano perché da questo minimo tassello forse possiamo cogliere qualche elemento della sua opera e anche della sua forma mentale. Londra aveva le sembianze di un gigante e io per parecchio tempo, perché gli anni erano passati, avevo mantenuto le distanze senza osare concedergli un po' della mia fiducia. Mi ero spinto a esplorare a malapena le caviglie avventurandomi a sbirciarne le ginocchia e continuavo a chiedermi quando sarei stato grande abbastanza per conoscerne tutti i confini. Perché è interessante questo brano? perché in fondo James è un esploratore di luoghi e di anima, dell'anima dell'uomo e attribuisce caratteri propriamente umani alle città che vive, che abita, che racconta. Basta pensare per esempio a uno dei suoi racconti lunghi più brillanti, più intensi, più forti che è intitolato il carteggio Aspern. Quindi non sto parlando dei romanzi più celebrati come Daisy Miller o come i bostoniani, ma di opere apparentemente di minore importanza e tuttavia nel carteggio Aspern oltre a raccontarci, oltre a portarci al cospetto una serie di ritratti assolutamente indimenticabili, c'è di mezzo esattamente il ritratto di una città, una città languente, la città è Venezia e nella dimensione del palazzo abitato da Juliana Bordero c'è la parabola, c'è la vicenda della grandezza che si sta disfacendo di Venezia, grandezza che si sta disfacendo e con la quale anche noi da turisti, da villeggianti o anche da ospiti temporanei, difficile esserne abitanti così fortunati sono davvero ormai sempre meno, in quella dimensione del palazzo James sta raccontando una vicenda storica che va morendo, quella appunto di Venezia.